attenzione attenzione è vivamente sconsigliato l'utilizzo delle due ruote bufere di vento in città non ti porta mica via il vento non vorrei mollare le due ruote proprio ora che inizia il bello imprevisto va previsto la mia giacca twin mi dà tutta la libertà di muovermi in moto in perfetto stile biker anche quando l'aria è veramente sferzante la costruzione hydro scud la rende 100 per cento impermeabile traspirante e anti vento ma è anche bella calda e confortevole grazie all'imbottitura interna innovata termica